Pace e buongiorno a tutti quanti. Oggi mercoledì 16 settembre continuiamo la nostra meditazione della parola di Dio, in particolare della prima epistola di Pietro, leggendo i primi sette versi del capitolo 5, versi sui quali mi soffermerò brevemente in un modo particolare sulla seconda parte. Questo in quanto nella prima parte vi sono dei consigli che vengono dati dall'Apostolo a quanti hanno delle responsabilità di cura nella comunità, gli anziani, da intendere qui non come persone che hanno una certa età, ma come persone che sono state da Dio chiamate a sorvegliare e condurre l'igregge del Signore nelle vie di Cristo, e vi sono poi anche dei consigli e delle istruzioni che vengono dati a quanti sono condotti dagli anziani, vale a dire ai credenti, consigli che sono finalizzati a favorire lo sviluppo e la crescita della comunità cristiana. Il concetto che comunque traspare da questi versi, sui quali ripeto non mi soffermerò, ma dei quali sto semplicemente accennando, è il concetto della reciproca sottomissione e del reciproco rispetto che deve essere riconosciuto. Questo perché è essenziale che nell'ambito della Chiesa ognuno sappia accettare il ruolo che Dio gli ha assegnato, sappia assolvere ai doveri che dal ruolo derivano e sappia svolgere il tutto riconoscendo nell'altro un figlio di Dio, riconoscendo nell'altro una persona per la quale Cristo è morto sulla croce e riconoscendo nell'altro qualcuno insieme al quale, pur in ruoli diversi, servire il Signore nell'attesa del suo ritorno. I versi 6 e i versi 7 sono un po' la chiave di lettura poi di quanto abbiamo letto prima ed essi parlano di una umiliazione sotto la potente mano di Dio. Un'umiliazione sotto la mano di Dio che implica quindi un'accettazione della sua volontà, un'ubbidienza ai comandamenti che egli presenta è un riconoscere che Dio è colui che sa ogni cosa, che fa ogni cosa e che ci dà delle istruzioni che sono buone per la nostra vita. Il concetto di umiliazione è un concetto che viene presentato anche da Gesù, il quale invita i credenti ad essere umili e mansueti come lui lo era. Il concetto di umiliazione che è poco comune al tempo d'oggi dovrebbe essere a dire il vero naturale in noi esseri umani. E questo perché umiliare trae la sua origine da humus e humus è anche l'origine del termine uomo. Esso si riferisce alla terra, l'humus, e noi sappiamo di essere stati tratti dalla terra. Fu Dio che ci ha formato con le sue mani e ci ha resi delle anime viventi mediante il soffio del suo spirito. Quindi umiliarsi significa innanzitutto riconoscere quello che noi siamo. Dio è il creatore, noi siamo polvere della terra. Umiliarsi significa riconoscere non soltanto quello che noi siamo riguardo a Dio, ma anche quello che noi siamo riguardo agli altri. In un mondo dove c'è tanta arroganza, tanta superbia, in un mondo dove si cerca di sopraffare l'altro per dimostrare di essere migliori, il credente sa di non essere né migliore né peggiore degli altri. Sa di essere un uomo, una donna come gli altri. Sa di essere una creatura di Dio bisognosa della sua redenzione e proprio per questo non ci sono spazi per forme di disprezzo o neanche di tipo razziale. Noi credenti infatti riconosciamo in ogni uomo, in ogni donna, una creatura di Dio. Non c'è una superiorità della razza bianca rispetto a quella nera o viceversa. No, siamo tutte creature di Dio. E questo ci deve portare ad essere ospitali, accoglienti nei confronti di tutti, ad essere misericordiosi e compassionevoli e nello stesso tempo ci deve portare ad applicare la giustizia in modo equo, a prescindere da quello che è il colore della pelle. Sapete, la Bibbia non ci parla né di un buonismo che è diffuso in alcuni oggi, ma nemmeno di una discriminazione che caratterizza il pensiero di altri. Ci parla di giustizia e la giustizia non ha né preferenze né riguardi. È qualcosa che viene applicata secondo dei parametri ben definiti senza fare discriminazioni né in un senso buonista né in un senso opposto. Ora, oltre a umiliarci sotto la potente mano di Dio, la parola del Signore ci invita a gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione. I tempi che viviamo sicuramente ci spingono ad essere preoccupati. Ci sono tante incertezze, l'incertezza genera preoccupazione, incertezze riguardo al futuro ma anche riguardo all'imminente presente. Anche questa pandemia nella quale siamo tutti quanti immersi crea una certa preoccupazione nel cuore di molti. E questo perché abbiamo paura, forse non tanto per noi stessi quanto per le persone anziane con cui veniamo a contatto e che magari fanno parte della nostra famiglia. E se permettiamo alla preoccupazione di prendere il sopravvento, la nostra vita inevitabilmente sarà travolta dalla preoccupazione stessa che si trasformerà in ansia e ci porterà a vivere male il presente e a non godere del bene che Dio invece ha preparato per noi. Ecco, le preoccupazioni dobbiamo imparare a deporle ai piedi del Signore. Certo, le situazioni difficili ci sono, ma noi abbiamo creduto in un Dio che è a cura di noi, come dice l'Apostolo stesso. Cioè che si preoccupa di noi, poi il concetto in fin dei conti è quello, e che quindi non permette che ci accadano delle cose che possano allontanarci dalla grazia, possano allontanarci dalla vita eterna, ma anzitutto quello che avviene nella nostra vita, se noi amiamo il Signore, se noi abbiamo fatto del Signore la parte più importante, coopera per il nostro bene. E oggi, nell'affrontare questo nuovo giorno, spero che possiamo ricordarci di questo. Quando ci saranno dei motivi di preoccupazione, alziamo gli occhi al cielo, guardiamo a Dio e ricordiamoci che Dio ha cura di noi. Quando ci sono delle difficoltà e ci sentiamo soli e abbandonati, alziamo gli occhi al cielo, guardiamo al Signore e ricordiamoci che soli e abbandonati non siamo, perché Dio ha cura di noi. La pace del Signore, la sua grazia, il suo amore, sia con tutti quanti noi. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Grazie.